La preghiera per la pace si è alzata anche dalla Terra Santa. Rappresentanti di varie confessioni, imam e rabbini, si sono riuniti davanti alla cattedrale russa della Santissima Trinità, nel centro di Gerusalemme. Per il Patriarca Latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, la priorità è riportare la pace ad ogni costo. Il mio ruolo di leader religioso è invitare chiunque, compresi leader religiosi di Ucraina e Russia, a risolvere i loro conflitti, le loro incomprensioni, non con la guerra e senza giustificare, in alcun modo, l'uso delle armi. Una richiesta che si è materializzata in una lettera indirizzata al Patriarca della Chiesa Ortodossa russa Kirill, che ha un rapporto privilegiato col presidente russo Vladimir Putin. Noi leader religiosi, che rappresentiamo molte tradizioni, scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per la guerra in Ucraina. Si legge nel testo firmato da 150 religiosi da tutto il mondo.